Politica di riduzione dei rifiuti e politica attiva per l'ambiente, due soluzioni immediatamente attivabili. Assolutamente sì, abbiamo proposto due risoluzioni urgenti. Abbiamo proposto al Sindaco di Bari di dare delle agevolazioni fiscali sull'Atari, piuttosto che delle agevolazioni sugli oneri di un'operizzazione, a chi nelle case dei baresi introduce due apparecchi assolutamente fantastici. Uno è un depuratore di acqua che elimina completamente l'acquisto dell'acqua minerale e la produzione di rifiuti plastici. Il secondo è un dissipatore che liofilizza il rifiuto organico, lo smaltisce nella fogna nera e elimina tutta la produzione di rifiuto organico che viene smaltito attualmente in quei cassonetti marroni a Bari e poi viene trasportato nelle discariche con dei costi economici e ambientali enormi. Sono due apparecchi dal costo limitato se prodotti e distribuiti in larga scala. Noi abbiamo ipotizzato circa 800 euro e abbiamo ipotizzato che in pochi anni, attraverso questo abbattimento dell'Atari, i cittadini possono avere un vantaggio economico all'installazione di questi due strumenti, cose peraltro che nel mondo già esistono da moltissimo tempo, quindi noi come al solito arriviamo buoni ultimi e che possiamo assolutamente realizzare. Il Comune di Bari ha finanziato l'acquisto per 500 mila euro di biciclette e noi abbiamo ipotizzato che 800 mila euro potrebbero consentire a mille famiglie baresi di avere subito questi due apparecchi e quindi subito di non produrre plastica, subito di risparmiare nell'acquisto dell'acqua minerale, subito di risparmiare nel tempo che ci mettono a smaltire l'organico e per noi città di Bari risparmiare nel costo dello smaltimento di questo rifiuto organico nelle discariche che sono uno strumento obsoleto di smaltimento dei rifiuti. È inaccettabile che noi facciamo ancora un buco a terra e ci mettiamo dentro un rifiuto che produce percolato e gas assolutamente nocivi e dannosi per l'ambiente e quindi noi avanziamo questa proposta e diciamo sin da ora che nel programma di governo del centro-destra queste cose verranno ritrovate perché noi abbiamo la possibilità di finanziarle con i soldi del civico bilancio, abbiamo la possibilità di tutelare l'ambiente, abbiamo la possibilità di rendere questa città più moderna, più efficiente e soprattutto che guarda al futuro.